Allora, guarda, tu sei già arrivato, sei qui davanti a me, però non mi rievi da solo, non arrivi da solo, aspetta che ci mettiamo in protezione, quindi creo due sfere energetiche, una tutta intorno a me, una tutta intorno a te, affinché niente, nessuno possa interferire con noi. Senti, mi arrivi che sei infastidito, cioè ti guardi indietro, senti che c'è qualcuno intorno a te che ti sta infastidendo anche se tu riesci ad allontanarli, però mi vengono delle entità energetiche, non sono alieni, sono come se fossero la raffigurazione comunque che hanno, è come se fossero indivisa, come se stessero cercando, non solo te, cioè non sono venuti per te, ma è come se, sai questo concetto che abbiamo in questi momenti, tanti controlli, non nella fisicità, ma controllori nell'oltre, quindi ci sono queste sentinelle, chiamiamole così, militari, sentinelle che sono lì di controllo, le tieni, le mantieni lontano, però tu ne hai la percezione in questo periodo, ti senti? Sì, infatti una delle mie domande era proprio questa, infatti volevo dirti, fai un controllo su di me, su mia mamma, sulla casa per verificare che non ci siano interferenze esoteriche o di altro tipo, perché era una delle domande perché sentivo qualcosa, ovviamente io mi proteggo, però percepivo qualche cosa che diciamo di non armonico, per questo dico. Non ho la raffigurazione, tu hai detto te e tua mamma, quindi la casa, nel momento in cui vedo loro, tu sei davanti a me, scompare questa visualizzazione fisica, quindi la casa, è come se fossi in un ambiente solo energetico, però ci sono questi pattugliamenti che cercano di infastidire le nostre frequenze armoniche, tu hai detto c'è qualcosa di non armonico, quindi è come se visualizzassi nell'oltre queste entità sentinelle militari che cercano con i loro passaggi di interferire mandando in cortocircuito un po' la nostra frequenza armonica, vibrazionale, la tua, la mia, insomma un po' come se fossero ovunque, le vedo andare, non stanno camminando geometricamente, cioè uno dritto, un altro si incrocia, un po' come se facessero dei circuiti a scacchiera, ecco pensa come li vedo. Che sono queste, da dove vengono? Sembrano inseriti da una sorta di programma, è come se fosse, adesso in questo momento è come se stessi guardando un videogame, da dove vengono, dall'apice del sistema, come si ammessero messo in questa pseudo rete della Matrix, queste sentinelle militari a passeggiare, a fare un circuito sempre comunque identico, ti dico quasi a scacchiere, a interferire come fastidio, no? Come se dall'apice vengono proprio messi, mandati da il circuito insomma che ci pilota dall'alto. Questi sono legati alla situazione della pandemia da Covid-19? Sì, perché questa sorta di divisa militare che sono comunque invece sempre oscuri, il militare lo vedo non perché sia graduate, ma un berretto e dei bottoni, cioè una divisa attillata con dei bottoni avanti, tutti vestiti uguali, ecco la divisa me lo dà perché sono tutti vestiti uguali, non è una divisa identificativa di nazione o di grado o di qualsiasi corpo che noi militari siamo a conoscenza, ma semplicemente il fatto che siano tutti completamente vestiti uguali, oscuri, neri, un berretto in testa e copricapo e dei bottoni. Vabbè, non perdiamo tanto tempo, abbiamo un portale e facciamolo andare via attraverso un portale, allontaniamoli definitivamente dalla mia zona, dalla mia casa, anche dal posto in cui vivo, perché sono fastidiosi. Apriamo questo portale, sono d'accordo, e mandiamo loro nel portale insieme a loro tutto il circuito di pavimentazione dove loro quasi come se fossero ipnotizzati camminano e percorrono questi sentieri definiti, quindi tutto il circuito di pavimento, il circuito dove loro percorrono questa sorta di camminamento interferente e loro stessi, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Facciamo anche tutto il basamento dove loro… Sì, facciamo in modo che si portino via tutti i desideri e che non ritornino di nuovo a disturbare me e le persone che… Bene, si sono portate dietro tutto, cancellando ogni residuo, ogni forma energetica, filamento energetico e traccia del loro percorso, del loro circuito. Bene. Allora, chiudiamo questo portale e continuiamo e andiamo avanti. Dimmi. Allora, perché mia mamma non riesce ancora a liberarsi da questi verbi intestinali che le causano un fastidioso prurito e come li eliminiamo definitivamente? Vediamo. Guarda, lei è come se li rigenerasse. è in uno stato d'ansia molto particolare, interno, che non lo lascia a vedere, ma sembra che i medicamenti che lei sta facendo non siano efficaci perché li distrugge prima in un momento e poi lei li ricostruisce in una sorta di… è stanca tua madre, è di scarica energetica, si riproducono perché lei non riesce a ripristinare la sua vibrazione energetica di forza, di dinamicità, sempre energetica ovviamente, di pesa, considerando la sua età, di risollevarsi. Che cos'è che è la turba così in modo fastidioso? Pensa a tuo fratello. Penso che sia la situazione familiare di quella relativa a mia sorella Silvana, di cui noi abbiamo parlato spesso, che un po' si è allontanata. Anche mio fratello, c'è un fratello che è fuori dall'Italia e dà pure qualche problema. C'è un fratello, abbiamo il mio fratello più grande, Dario, che abbiamo avuto una riscursione, però lei pure l'ha chiarita, però lei tende un po' a farsi questi problemi e a rievocarle. Io cerco sempre di dirle di lasciare andare, ma lei continua… Lei non ce l'ha fa, sì. Ma come la possiamo aiutare? La possiamo aiutare in qualche modo? Noi dobbiamo, come tu fai magari a parole dicendo che emotivamente devi lasciare andare, dobbiamo toglierle dal terzo chakra, quindi proprio dall'intestino, perché presso solare, queste emozioni, emozioni di rabbia, di autopunizione, come se lei si desse le colpe di qualche cosa che poi in realtà non ha, perché gli atteggiamenti che sviluppano nei suoi confronti i tuoi fratelli, tua sorella, non c'entra nulla a che fare con quello che lei invece si colpevolizza, quindi sensi di colpa, emozioni di bassa vibrazione, dobbiamo ripulirla e continuare sempre a ripulirla perché lei li rifà. Lei dice vorrei andare, si sta preparando come ad andare via, non so se ne parla lei della sua morte. Sì, ne parla, ne parla diciamo, però diciamo che più che altro è un'abitudine con cui lo dice, ancora mi sembra abbastanza energica per poter continuare. Però lei nella considerazione della proiezione che ha della sua vita comunque giunta, non al termine, comunque a buon punto del suo cammino, avrebbe il desiderio di pacificare tutto, cioè è come se demoralizzata dal fatto che lei possa andare via in qualunque momento e non avere la pace intorno a sé, che è quella che lei ha faticato tanto per costruirla invece, quindi l'unione familiare, la pace, il benessere. Quindi lei è quello che crea dentro di sé, un'autodemolizione se vogliamo dire, è un dispiacere grande del fatto che non ci sia pace, armonia e benessere nelle loro vite. Ci sono delle cose su cui noi possiamo influire e che possiamo cambiare, altre che invece purtroppo non siamo in grado di cambiare. Lei dovrebbe trovare un equilibrio in questo modo, nel senso che lei le cose che riesce a cambiare va bene, quelle che non riesce a cambiare dovrebbe un po' farsene una ragione, perché non credo che la situazione con i miei fratelli, mia sorella potrebbe anche non migliorare, potrebbe rimanere stazionaria e quindi lei non dovrebbe farsi condizionare da questo e quindi rimanere comunque integra nonostante le vicissitudini che accadono in tutte le famiglie. Modifichiamo i sentimenti che queste situazioni creano lei, cioè le modifichiamo nel momento in cui arrivano, perché con la sua mente arriva a pensarli, mentre si fa dei pensieri di dispiacere, di colpevolizzazione, le modifichiamo. Quando lei pensa ai tuoi fratelli facciamo in modo che Anima aiuti la mente di tua madre a modificare le reazioni, quindi a stare serena e in un certo senso guardando il passato vedere che lei ha fatto tutto quello che di meglio c'era da fare. Quindi anzi con questo concetto e questa informazione che noi stiamo dando ad Anima che trasmettesse alla mente di tua madre, la portiamo con noi se tu sei d'accordo a visualizzare dall'altro le vite che ormai sono ognuno le loro, proprio dei tuoi fratelli, quindi un lasciarli andare se vogliamo dire, affinché lei è con noi, anche per lei c'è una sfera energetica di protezione e le facciamo proprio vedere il quotidiano dall'alto dei tuoi fratelli e di tue sorelle, affinché lei possa comprendere il fatto che ognuno ha la loro vita, ma oltremodo il loro percorso animico di crescita e di evoluzione. Quindi di fronte a questo presente la ancoriamo invece al suo passato, ai ricordi di quanti sacrifici lei ha fatto, quindi del meglio che ha potuto fare per far sì che i suoi figli stessero bene nel futuro. Quindi con quel concetto di benessere, di una cosa fatta bene del suo ego, della sua anima, della sua spiritualità, le facciamo visionare le vite di ognuno di loro nel loro quotidiano, quindi del loro percorso di crescita e di consapevolezza e con serenità la riportiamo in casa in maniera che quando lei tra le sue cose sui fornelli pensi, inizia a pensare ai tuoi fratelli, li pensi anzi con un pensiero di luce, di armonia, di pace, di serenità e se ne faccia non una ragione ma una pace fatta dentro di sé, sei d'accordo? Sì assolutamente, una cosa in più che dovremmo fare è quella di togliere dal suo corpo emozionale le emozioni di bassa frequenza come i sensi di colpa, la lamentela e sostituirle con delle emozioni di alta frequenza, magari come la pace, il silenzio, la serenità, esatto. Un'energia elevata, sì, apriamo un portale dimensionale Roberto dove facciamo proprio togliere dalle sue mani energetiche, con le sue mani energetiche le emozioni di bassa vibrazione, quindi i sensi di colpa, il dispiacere che ha nel pensarli magari in quel modo o in quel determinato luogo o in una situazione particolare e le facciamo proprio buttare tutti dentro questo portale dimensionale, a facciamo svuotare dalle energetiche di bassa vibrazione, proprio perché facciamo notare ad anima che questo lavoro viene fatto perché altrimenti crea e danneggia delle disfunzioni nel suo intestino, quindi non riesce a debellare con l'aiuto dei medicamenti queste infezioni, cosa che mi hai detto che ha questi batteri? Questi vermi intestinali che le danno fastidio, molto fastidio nel quotidiano, quindi è importante che vengano tolti queste energie di bassa vibrazione e allo stesso momento è molto importante che si attivi affinché porti un'energia di autoguarigione dentro la fisicità di tua madre, insieme a questa energia di autoguarigione inseriamo pace, serenità, armonia, tranquillità e di lasciarsi andare, lasciare andare le cose, non può avere il controllo sempre di tutto, ma lasciare che ognuno, ogni anima abbia, anima dei suoi figli, possa avere il loro percorso e continuare il loro percorso di crescita, di consapevolezza in questa esistenza e riportare quindi, lo diciamo ancora, finché le informazioni vengano proprio impresse energeticamente, pace, serenità, tranquillità, calma dentro di sé, va bene? Perfetto, sì sì, va benissimo. Bene. Ecco, adesso è seduta sulla sedia ed è molto più rilassata di quanto l'abbiamo incontrata. Abbiamo messo l'informazione all'attivazione nell'immediato di autoguarigione, quindi di espellerli e mai più rigenerarli, perché non ci sono più le condizioni per rigenerarsi, visto che abbiamo modificato in positivo. Sì, penso che si guarirà e si risolverà in breve tempo. Ok, allora, questa chiudiamo e andiamo avanti. Quante vite ho vissuto finora? Riesci a vederle? Puoi darmi maggiore informazione sulla dimensione in cui mi trovo prima di venire sulla Terra? Sì, vediamo. Allora, guarda, tu hai vissuto diverse vite prima di Roberto, alcune interessanti, alcune diciamo non che non siano state interessanti, però più nella normalità, nel quotidiano di un lavoro. Mi porti in una vita dove hai lavorato per un lungo periodo e facevi i vetri delle finestre, quindi andavi in giro per tutte le quartiere, eri ben voluto in questa famiglia. Le altre vite ne avrei fatte una decina, altre un pochino più spericolate, un'altra molto studioso. Vieni da una dimensione, beh, guarda, la dimensione da cui tu provieni, diciamo che è una dimensione un po' dove non c'è una definizione luogo. Ecco, vibrazionalmente ti vedo nella tua totalità, quindi in una vibrazione splendida, energetica, ad alte frequenze, molto luminosa, ma a volte anche invisibile, cioè appari e scompari. Quello che mi trasmetti è un grande senso di libertà, perché cambi luogo e dimensione, luogo come se fossi sempre in questo luogo non definito, però vedo che vai ovunque, ecco sei ovunque, diciamo che è come se fossi fuso con il tutto. Ma non c'è un luogo definitivo, definito. Allora quella dimensione può essere che era la sorgente in realtà, magari è qui. Sì, 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 ne ha la vibrazione, lo specifico, sì, nel tutto dove c'è, come la sorgente, sì, sì. Ma perché ho scelto di venire sulla Terra e di incarnarmi qui sulla Terra? Guarda, l'attrazione di questa fisicità, diciamo, non la fisicità di terza dimensione, l'attrazione come se dalla sorgente venissi attratto dall'esterno, quindi a staccarti energeticamente come una scintilla, chiamiamola, per sperimentare, in un certo senso, la diversa dimensione. Noi in dimensione immaginiamo luoghi fatti diversi, non di case, magari fatti energetiche. Invece nel momento in cui ti separi e ci separiamo da questa sorgente, noi cambiamo dimensione. È già questa struttura di dimensione che ci piace percepire. Poi in realtà però, distaccati dalla sorgente, entriamo in un luogo caotico, quello dove mi sta portando quantomeno la tua parte animica. Caotico dove c'è il caos di questa nuova dimensione che non è più un essere tutt'uno fuso con la sorgente. Dove in realtà è lì che può accadere anche di essere catturato, di fare altri incontri e quindi modificare il concetto di venire a fare queste esperienze in questi mondi, come questa della Terra, da soli o con persone, diciamo che una volta distaccato dalla sorgente, si entra in una dimensione dove siamo quasi attratti dall'esterno. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì, assolutamente. Il momento in cui usciamo da questa sorgente, attratti dall'esterno, che cambiamo dimensione, entriamo in un girone, chiamiamolo, in un girone energetico di caos, dove lì tutto può succedere, dove lì inizio ad identificare altre entità, altre vibrazioni, altri esseri vibrazionali ad altre differenti frequenze. Vedo corpi, vedo frequenze, vedo colori e tu rimani bianco, energeticamente bianco, mentre gli altri sono differenti. E' lì che vedo anche però in alcuni luoghi, alcuni che si appartono e quasi creano questi cluster di reincarnazione in diversi luoghi, sia terrestri che in altri ambienti planetari, se vogliamo dire. E' lì tutto in questo caotico girone, circuito, non so come dirlo, che accade quello che uno non si aspetta. Quindi perché hai fatto questa scelta lo fai come esploratore, sei un'anima che decide di fare di più di questo periodo distaccato dalla sorgente. Quindi sperimenti, ma sperimenti con grande avidità di conoscenza, scendi come per desiderio di sapere e di comprendere. E la parte fisica ti attrae molto di questa esperienza terrena, di terza dimensione. Perfetto. Senti, cosa ho fatto fa la fine della mia vita precedente, la nascita in questa vita? In che dimensione sono andato e che scoperte ho fatto? L'aria fra le vite. Sì, sì, ho capito. Guarda, tu quando lasci i tuoi corpi di questo periodo di esperienza in questa terza dimensione, che sembra così breve, però si allarga come un tempo molto lungo, contandolo ad anni, diciamo. No, però nei framezzi, come hai detto, come le hai chiamate questi tempi? L'aria fra le vite. Ecco, l'aria fra le vite. Tu hai creato una stanza, una tua stanza, dove entri e depositi con una certa, vedo che ti nascondi, quindi segretezza, chiamiamola, un database dove in un particolare modo che non è scrivere o selezionare, immagazzini queste tue esperienze, non sono sacchetti, non sono sfogli, ma vedo che entri in questo pseudo stanza, ovviamente nella mia concezione ho questa visione, lei me la fa apparire, dove tu nascondi, nascondi, proteggi le tue esperienze, le buone e le cattive, le separi. E devo dire che quando entri in quella stanza, depositi queste informazioni delle vite, delle esperienze vissute, sempre stupito, sempre un po' basito, è come se non fossi poi così realmente soddisfatto di quello che accatasti come esperienze, come capitoli diciamo delle tue, sei sempre ti tocchi, ecco mi fai vedere sconcertato, ecco. Quindi hai creato questa stanza dove metti lì e passi molto tempo lì dentro a catalogare. Ma che cos'è che mi manca esattamente, fra le esperienze che non ho ancora depositato in questa stanza? E che fondamentalmente quando tu scendi, ogni volta che scendi, scendi con la speranza, chiamiamola così, perché è limitativa questa parola, in quello che invece tu emani come ricerca in questa vita, pensi di fare esperienze che esaltano la tua curiosità, che completano quantomeno la tua voglia di sapere, e invece in realtà ti rendi conto che in questo magazzino, database dove tu metti, stai assemblando insignificanti per la tua crescita. E quindi diciamo che non ti manca proprio tanto per decidere che questa esperienza fatta, è questo al finale, mi stai portando lì in questa stanza dove mi stai facendo vedere che fondamentalmente non ne vale così poi la pena di fare queste esperienze nella fisicità, come invece una volta distaccati dalla sorgente si ha il pensiero di chissà quale esperienze fare. E lo stai portando segretamente dentro questa stanza quasi come portarle poi con te a comunicarle a chi invece è dentro la sorgente, cioè tu hai fatto un database di esperienze elaborandole a tutto tondo in tutte le tue circostanze di vita, quindi di guerra, di saggezza, di didattica o di fisicità nei lavori, portando il succo del fatto che non ne valga la pena di entrare a fare questa esperienza che chissà quali aspettative si hanno, quindi diciamo che non ti manca quasi più niente, sono quasi alla fine mi sta dicendo, questa vita che fai di Roberto è come se coronasse con grandi verità che porti sempre dentro questa stanza tutto questo tuo risultato finale di questa esperienza e adesso è lì stretto, non lo stai condividendo con nessuno dei tuoi simoli, ma ne farai un sunto proprio per empaticamente, energeticamente svilupparlo, diffonderlo come informazione nell'unicità della sorgente. È come se fossi determinato a dare questa informazione non solo alle anime in questo girone, quando si è distaccati, ma direttamente alla sorgente. Per questo ho fatto questa vita, diciamo dove era la ricerca dell'illuminazione, quindi del risveglio spirituale e mi sono risvegliato in questa vita e ho fatto queste esperienze perché poi ovviamente le avrei portate alla sorgente per accrescere ancora di più la consapevolezza della sorgente perché la sorgente è coscienza indifferenziata però così diventa una coscienza arricchita di tutte le esperienze che fanno le anime che tornano da lei. Sì, però mentre prima molte anime, prima nei tempi indietro ne arrivavano poche, ritornavano poche alla sorgente con questo sunto, chiamiamolo, con questo pacchetto di informazioni dove palesemente si esprimeva il senso di inutilità di questa reincarnazione, ora insieme a te, io che sono adesso dall'alto, stanno ritornando alla sorgente sempre più persone, anime chiamiamole, energie e si riconnettono con questa informazione, tanto che creerà un'onda di ripristino nella considerazione di staccarsi da questa sorgente per esprimere la volontà di precipitare a fare queste esperienze in terza dimensione. Sì, quindi la sensazione che avevo che dovesse essere questa probabilmente l'ultima vita prima di tornare alla sorgente, diciamo è una sensazione che risponde al reale, quello che pensavo io. Va bene, andiamo avanti allora per... guarda il mio amico Mario, che era nella vita precedente? Io e Mario ci siamo già incontrati in una vita precedente? Guarda, io vi vedo per mano, mi arrivate per mano da una vita precedente, come stavo guardando fratelli, fratelli ma come se viveste nella stessa casa, non siete cugini, ma è come se foste fratelli di due madri diverse, sì, vi siete già conosciuti, siete fratelli e amici, perché questo fatto di essere di due madri... Sai, in quel tempo vedo che avete dei stivaletti, dei scarponcini un po' dietro nel tempo, molte donne morivano nel parto e quindi questi uomini si risposavano quantomeno per non rimanere soli e poi procreavano ancora. Questo fatto che non eravate delle stesse madri, anche se eravate fratelli, vi ha fatto crescere come amici, con un rispetto l'uno verso l'altro anche più forte, perché i fratelli qualche volta superano anche la confidenza proprio perché pensano di poterlo fare con il fatto di essere così fratelli e a volte scaturiscono anche litigi proprio perché non c'è quel rispetto che si deve avere, perché si va oltre con il concetto. Invece voi vi amate, vi rispettate, è un'unione che dura nel tempo, che si solidifica nel tempo, vi sorreggete, sostenete, è una bellissima fratellanza, chiamiamola così. Il mio amico Mario nella vita precedente riesce a vedere chi era, o magari il periodo in cui lui ha vissuto, riesce a vedere qualcosa? Sì, lui mi è arrivato subito con una tuta da minatore, come se avesse fatto un lavoro, una vita molto molto faticosa, all'oscuro perché nelle miniere, ma dove oltre a questa fisicità, questa esperienza di vita dura nella fisicità perché ha fatto un lavoro molto particolare, ha fatto questo lavoro, gli ha portato via anche nella pericolosità di quel tempo, di quel lavoro, anche affetti. Quindi vive una solitudine, una vita misera nelle emozioni e dura nella fisicità, è stanco, molto stanco. Lui lascia quella vita un po' desolata e desolante nel desiderio di ricercare una via d'uscita, ma quantomeno di provare ad avere amore, cioè si attacca in questa vita qui, lui si attacca agli affetti perché è grande, è desideroso in quella vita, proveniente da quella vita dove ha sofferto tanto la solitudine e il buio. Poi ho inteso un po' tutto, solo le miniere, energetico, vibrazionale. In questa vita si aggrappa con tenacità agli affetti che ha, però è come se continuasse quella vita un po', cammina in questa vita un po' come cieco, in un oblio, non sa bene quello che desidera, quello che vuole, sa solo che abbraccerebbe con gli affetti tutto il mondo. È un bravo ragazzo quest'uomo. Sì, sì, assolutamente sì. Ecco, però è nato stanco se vogliamo dire, quindi è stanco di essere lui qui, tu per una ragione, lui invece non per una consapevolezza estrema, ma per la sofferenza che vive come anima in questa reincarnazione. Quindi... Riesce a vedere nella vita questa dovera emanatore, su per giù che periodo siamo, lo so. Tu lo senti di appartenere, senti che appartiene a questa stanchezza energetica che lui ha? Penso proprio di sì. È una persona che ha lavorato tanto, ed è continuo ad essere costretta a lavorare per le necessità, è quello che vedo io... Sì, esatto. Mentre tu hai quella stanchezza di essere in questa esistenza di una consapevolezza estrema, lui non è così consapevole, però animicamente è stanco di stare qui, cioè di vivere queste vuote vite, capito così, un po' senza piaceri. Allora, l'epoca mi viene a cavallo dal 1700 al 1800, un po' quel periodo di cambiamento che c'è stato di quell'epoca. Sì, ho capito, perfetto. Senti, un'ultima cosa, in quella vita in cui noi eravamo insieme, la madre era differente, ma avevamo lo stesso padre? Lo stesso padre, e lui è stato quello che ha perduto la madre, che è morta di parto, mentre tu hai mantenuto la tua mamma e lui è cresciuto con tua madre. Quindi lui si è sentito accolto, quindi è un po' sempre riverente, anche qua lo porta, come se dovessi sempre sentire di dirti grazie, perché ha compreso che è stato tirato su da tua madre e tu lo hai accolto come fratello, quindi è molto riverente nei tuoi confronti, anche in questa vita, ti ringrazia. E questa vita che siamo stati noi insieme riesce a identificare il periodo, che periodo siamo, siamo lontani? È molto indietro, perché questi scarpuccini mi portano un po' indietro, e poi la vita, i vestiti che avete… Medioevo, forse prima del Medioevo… Sì, sì, quel periodo lì, sì, perché è indietro, sì, è molto indietro. Perfetto, vabbè, chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti. Il Baldo Todol, il libro dei morti tibetano, ha un fondamento, quello che è scritto nel Baldo Todol accade a tutte le persone che trapassano? O soltanto ad alcune? Mi riferisco soprattutto ai buddhisti. Il libro dei morti, no? Sì, il libro dei morti tibetano, il Baldo Todol. Di cui parla che quando uno muore… Sì, tutti i passi, tutto quello che accade alla persona che muore, diciamo, è quello che accade. Praticamente, la persona che è morta, c'è una persona che ha questo libro e che gli parla, anche se lui è morto, per dirgli, diciamo, quali sono le fasi che sta attraversando durante la morte, diciamo, quando è morto. Nel trapasso, mentre nel trapasso… Sì, sì, per capire come liberarsi e come procedere per avere… o per liberarsi, diciamo, o per avere una vita più favorevole nella prossima reincarnazione. Sai come lo vedo? Che è come se questa situazione di questa entità, comunque, che è lì ad informare i trapassati, quindi, normalmente, è come se ci fosse, come uno stazionamento, una stazione, ma non passano tutti per di lì, ma solo chi ne è a conoscenza, come se lo andassero alla ricerca, ne andassero, chi ne è a conoscenza. Ok, vabbè, comunque, questa era soltanto una informazione, non voglio approfondire questa. Da dove vengono questo nervosismo e questa rabbia che continuano a formarsi nel mio corpo emozionale? Si possono eliminare definitivamente? Io sto già facendo un lavoro, sto già mitigando, però vedo che comunque continua a ripresentarsi, ma riesci a capire da dove vengono, da qualche vita precedente, da qualche dinamica, non lo so. Vediamo, questo nervosismo e rabbia, dici? Sì, adesso la rabbia meno, però il nervosismo c'è ancora, lo sento, diciamo, sto lavorando su questo, però vedo che continua a riformarsi. Guarda, sì, questo concetto, questa domanda che tu mi hai fatto, dove sto io quando sono nei momenti fuori dal corpo, la consapevolezza di comprendere che questo database che tu stai costruendo è una delusione delle esperienze che porti, quindi quasi, è da lì che viene, sei come a fine lavoro, diciamo, a fine raccolta e quindi più amplifichi la tua consapevolezza energetica, quindi ti fondi con la tua consapevolezza, con la tua essenza originale e più aumenta questo nervosismo, è un nervosismo fisico, cioè, diciamo, la mente che elabora, è anima che elabora e la mente che mette in subbuglio internamente questo distacco con la fisicità. È come se più diventi consapevole, più stai più bene dentro con la tua anima, quindi con tutte le tue DNA attivate, le tue eliche più attive, non stai più bene dentro questo contenitore e inneschi questo malessere, no? Diciamo, quindi possiamo fare questo affinché il tuo corpo, cioè, attivare il tuo corpo, quindi la tua cellula e anche il tuo cervello, il nervosismo, no? Quello che nella materia si percepisci come nervosismo, si allini energeticamente alla tua consapevolezza, affinché voi possiate entrare nel vostro equilibrio e tu metterti in uno stato di calma, di tranquillità, perché vibri nel tuo corpo, quindi anche nella tua mente, con la stessa vibrazione della tua anima che è esplosiva. Ok, va bene, facciamolo questo, anche se io lo sto comunque facendo con la parte razionale, però se lo fa anche la mia parte animica… Ecco, no, è bene che sì, la parte razionale inizi a instaurare comunque la calma, la tranquillità, però noi dobbiamo, siccome tu ti stai espandendo, stai vibrando sempre più in uno stato elevato, devi far sì che il tuo corpo, la tua mente, la tua parte, il misfero sinistro, comunque quello che elabora tutto quello che è nella fisicità di adesso, vibri anche lei, ha una forte vibrazione, quindi li mettiamo in un equilibrio e in una fusione fra di loro, affinché si accentui, si attenui il tuo stato emotivo di nervosismo, perché andando tutto in armonia si crea la pace, la serenità, la tranquillità, la pace è molto importante. Perfetto, un'ultima cosa prima di lasciare questa sessione personale, dai un'occhiata al mio terzo occhio, io ho provato ad attivarlo in questi mesi, vedo qualcosa, però ancora non ho una visione chiarissima, c'è qualcosa che ancora devo fare per portare a termine questa attivazione del terzo occhio? Guarda, io fondamentalmente Roberto da qui vedo che i tuoi chakra, compreso il tuo terzo occhio, sono allineati ed attivi, fondamentalmente hai anche molte percezioni in più di quelle di un tempo e sei in un buon cammino, un buon percorso insomma, diciamo che ormai quello che senti è la percezione proprio che ti arriva dalla connessione con il tuo terzo occhio e l'universo, ci sei, sei attivo, sei in posizione. Perfetto, stai andando tutto bene, perché stai facendo tutto graduatamente e stai iniziando ad avere queste informazioni di percepzioni extrasensoriali, come quelle che mi dicevi che stavi vedendo e sentendo che c'era qualcosa in disequilibrio. Assolutamente, perfetto.